Ciao, in questo breve tutorial realizzato da Musa Formazione, polo didattico universitario per Pegaso, Mercatorum e San Raffaele, vedremo come effettuare richiesta per il servizio di disabilità e DSA. In home page, clicca su Servizio disabilità e DSA. Avrai accesso alla pagina delle indicazioni sugli strumenti di supporto, tutorato e assistenza dedicati agli studenti con disabilità e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. Oltre all'elenco delle specifiche, potrai prendere visione di tutti i contatti in grado di fornire supporto. In fondo alla pagina, potrai scaricare il regolamento DdSA, il modulo di richiesta trattamento individualizzato e la domanda di accreditamento al servizio DdSA. Guarda anche gli altri tutorial di Musa Formazione, per imparare ad utilizzare al meglio la piattaforma e ricorda che, iscrivendoti con noi, hai sempre a disposizione il supporto di cui hai bisogno, dall'iscrizione al giorno della tua laurea.